Tutto iniziato dal piede perché avevo un sacco di richieste di vedere i miei piedi in foto e video già dai social Perché io avevo un percorso da bikini per cui facevo Da bikini che vuol dire? Noi siamo dei boomer Bikini significa che mi allenavo come bodybuilder e facevo gare E quindi mostravo già spessissimo i miei piedi, gli allenamenti, il calzino, la scarpa col tacco Questa parte qua affascinava un sacco, quindi mi scrivevano già spessissimo Sì per fare videochiamate, le foto, i video dove magari toglievo il calzino post allenamento, mettevo l'autoreggente, la scarpa, il piede sudato Esatto, il piede sudato con moltissimi confermi